10 5, 4, 3, 2, 1, vai destra 5, 30 accenno sinistro, 50 accenno sinistro, 20 destra 5, in sinistra 5 destra 5, in sinistra 5 200 inizio rail, destra 3, apre inizio rail, destra 3, apre 3, apre in sinistra 3, apre sinistra 3, apre in destra 3, apre lunga destra 3, apre lunga in sinistra 4, sinistra 4 70 accenno destro, subito sinistra 3, lunga gira sinistra 3, lunga gira in accenno destro subito al cartello destra 2, lunga meno gira cartello destra 2, lunga meno gira 30 sinistra 3, su ponte apre sinistra 3, su ponte apre 20 destra 3, apre destra 3, apre in accenno sinistro accenno sinistro in destra 3, lunga gira occhio bandiera gialla bandiera gialla destra 3, lunga gira in sinistra 3, lunga 2 tempi destra sinistra 3, lunga 2 tempi subito destra 5 70 ritarda sinistra 2, apre ritarda sinistra 2, apre 40 destra 2 destra 2 subito sinistra 3, apre subito sinistra 3, apre 20 inizio muro destra 2, lunga lunga gira chiude in fondo destra 2, lunga lunga gira chiude in fondo 20 destra 3 in accenno sinistro in destra 3, destra 3 in sinistra 4 20 destra 5 20 sinistra 3, lunga sinistra 3, lunga in destra 4 destra 4 30 destra 3 destra 3 subito sinistra 4 sinistra 4 100 destra 5 200 destra 4 lunga gira subito moltissima attenzione sinistra 2 meno subibio destra 4 lunga gira subito moltissima attenzione sinistra 2 meno subibio 2 meno subibio qui 150 sudosso e moltissima attenzione rotoballa stop sinistra 1 meno rotoballa stop sinistra 1 meno occhio 100 destra 5 100 destra 5 300 sudosso sinistra 5 200 dopo dosso moltissima attenzione sinistra 3 apre sporca sinistra 3 apre sporca in attento destra 2 apre attento destra 2 apre 30 e attento destra 2 gira destra 2 gira 150 alla chiesa sinistra 3 chiesa sinistra 3 subito attento sinistra 3 chiude subito stai sinistro vai giù sinistra 3 chiude subito stai sinistro stai sinistro 40 sinistra 3 chiude 2 3 chiude 2 30 destra 5 150 a vista sconnessi sinistra 4 70 sconnessi moltissima attenzione destra 2 chiude destra 2 chiude qua giù in accenno sinistro accenno destro 30 su dosso in sinistra 3 apre sinistra 3 apre e attento 20 sconnessi stai sinistro buca stai sinistro buca in sinistra 5 30 casa destra 2 lunga gira attento destra 2 lunga gira 20 destra 3 apre destra 3 apre subito sinistra 3 apre sinistra 3 apre 20 destra 4 in sinistra 2 su ponte gira sinistra 2 su ponte gira 100 destra 4 70 suddosso destra 4 50 destra 4 50 e attento cartello destra 2 apre destra 2 apre 50 sinistra 4 sinistra 4 30 destra 5 in sinistra 5 70 sinistra 5 70 acceno destro 500 pieni dosso 300 pieni e moltissima attenzione all'albero destra 4 all'albero dal giunfondo destra 4 destra 4 100 suddosso scende 100 suddosso scende 70 inizio rail sinistra 3 apre inizio rail sinistra 3 apre 20 destra 4 apre 4 apre 40 destra 3 lunga 3 lunga subito sinistra 4 inattento tornate destro chiude inversione attento tornate destro chiude inversione in vai 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 destra 4 in sinistra 4 lunga chiude 3 4 lunga chiude 3 20 destra 3 apre destra 3 apre in sinistra 4 lunga suddosso sinistra 4 lunga suddosso 30 accenno destro in accenno sinistro in destra 2 apre destra 2 apre in sinistra 4 sinistra 4 in acceno destro 50 sinistra 3 stai tutto sinistro sinistra 3 stai tutto sinistro 100 tutto sinistro sinistra 4 apre sinistra 4 apre 200 a vista e all'albero attento destra 3 apre 2 tempi all'albero attento destra 3 apre 2 tempi in destra 4 destra 4 20 sinistra 3 lunga gira sinistra 3 lunga gira subito subito attento inversione sinistra 1 meno subito subito attento inversione sinistra 1 meno in destra 3 apre 3 apre 30 e acceno destro su fine Fine. Finita. Finita.